Sottoufficiali, graduati, militari di truppa, personale, civile, in nome del capo dello Stato. Voi riconoscerete il tenente di vascello Valerio di Valerio, quale capo del circondario marittimo di Agropoli e comandante del porto. Cerimonia a porte chiuse tra soli militari nel rispetto delle vigenti misure anti-Covid questa mattina ad Agropoli, presso il castello dove si è svolto il passaggio di consegne al vertice dell'ufficio circondariale marittimo agropolese tra l'attuale comandante Giulio Cimmino e il comandante Valerio di Valerio. Presente alla manifestazione anche il comandante della Capitaneria di Porto di Salerno, Daniele Di Guardo. Ha dedicato questa sua esperienza alla bellezza, quindi alla bellezza del territorio, dei contatti che ha avuto. È stato davvero un bel messaggio. Sì, effettivamente il concetto di bellezza spesso viene anche un po' sminuito, se non altro perché un idiota disse che la bellezza salverà il mondo. Quindi spesso ce la facciamo scivolare addosso, ce l'abbiamo sotto gli occhi tutto il giorno, ci viviamo nella bellezza. Ormai siamo parte della bellezza come cittadini di questi luoghi e quindi non ci facciamo caso. Spesso ci sorprende che chi viene da fuori invece venga catturato da questa bellezza e decida di insidiarsi in un qualche modo e quindi di essere un ospite ricorrente. Dobbiamo essere più consapevoli della nostra bellezza. Ritengo che questo sia importante perché essendone consapevoli riusciamo a conservarla meglio, riusciamo a tramandarla e riusciamo a renderla sempre più bella. Assumo oggi un testimone importante, il comando di un bellissimo ufficio circondariale marittimo, di un territorio molto vasto, molto ricco, sicuramente da tutelare e preservare. Assumo come ho detto un testimone importante, quello del comandante Cimmino che ha fatto un eccellente lavoro e non lo dico io, è documentato dai numeri. Quindi il mio impegno sicuramente dal primo giorno, da oggi stesso, sarà quello di continuare questo importante lavoro e se possibile portare la mia esperienza qui a beneficio di tutta la collettività per poter continuare il lavoro e poter continuare a garantire la salvaguardia della vita umana in mare, la tutela dell'ambiente marino dall'inquinamento e la sicurezza della navigazione. Comandante, io invece porto il messaggio dei cittadini di Castellabate per quanto riguarda un problema serio nell'area marina protetta, ovvero l'isola di Licosa, soprattutto durante l'estate, è invasa da barche, da strutture purtroppo che danno seri problemi e fastidi soprattutto al mare. Quindi spero che lei si impegni, così come ha fatto Cimmino, a debellare totalmente questa grande difficoltà. È stata una settimana molto proficua quella passata col comandante Cimmino, abbiamo parlato anche di tutto quello che succede anche nei porti di Acciaroli e Castellabate. Lunedì mattina, nemmeno a farla apposta, parto proprio da Castellabate perché ho già un appuntamento con il titolare per discutere di diverse problematiche, tra cui anche questa. Quindi parto proprio da lì. È una giornata importante perché si conclude un periodo di comando appunto del comandante Cimmino a cui subentra il comandante di Valerio. È un momento importante sia per i comandanti, è un momento molto forte, emozionante, è una cerimonia formale e significativa, molto significativa. Il comandante Cimmino si è fatto apprezzare per la sua intelligenza, per la sua professionalità ed è stato sempre attento a tutte le tematiche. Questo è un territorio molto importante, lo sapete meglio di me, soprattutto dal punto di vista della tutela dell'ecosistema marino. Quest'anno è stata attribuita alla Capitanea di Porto di Salerno, quindi a tutti gli uffici che rientrano nel compartimento marittimo di Salerno, il premio nazionale di lega ambiente, ambiente e legalità. Proprio per tutto quello che si è fatto nell'ultimo anno a tutela dell'ecosistema marino, dell'ambiente in generale, e contro fenomeni di disturbo e di inquinamento, in alcuni casi molto importanti nei confronti dell'ambiente marino.